saluto a tutti ringrazio di vero cuore gli amici che mi hanno stimato musicalmente come vedete a fianco a me ci sono due giovani il maestro gerry e il nipotino rocco che significa questa e la musica continua tutte e tre vi faremo ascoltare la famosissima quadriglia la pedra gallese buon ascolto ciao 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 ciao